Lo so che voi tutti già sapete che Dragon Ball è ispirato al viaggio in occidente, però io sul mio canale non ne ho ancora parlato e quindi mi dispiace ma ve lo dovete subire un'altra volta. Scherzi a parte ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Cosa andremo a fare oggi? Beh, il 2024, stando a quello che dicono, sarà l'anno di Dragon Ball, tra film, videogiochi, serie tv, manga, anime, eccetera eccetera. E quindi perché non andare a scavare nelle origini editoriali del manga, nelle origini dell'opera, nella mente di Akira Toriyama, almeno proviamo a farlo, per vedere quali sono e talvolta quali potrebbero essere le ispirazioni e le opere che hanno dato origine al battle shonen più iconico e più famoso di tutti i tempi. Partiamo con il simbolo che dà anche il nome alla serie, ovvero le palle del drago. Tutti conosciamo le sette sfere e il loro funzionamento. I più studiati sapranno anche elencare quanti tipi di sfere esistono nelle varie opere, ma forse pochi sanno che le sfere, d'ora in avanti chiamate anche espediente narrativo, nascono dalla famosa opera giapponese Cronache degli Otto Cani. Questo ciclo di avventure narra le vicende di otto samurai. Questi guerrieri leggendari sono nati quando la collana di perle della principessa fuse si ruppe e le otto perle, tutte uguali tra loro, si sparpagliarono agli angoli del mondo dando origine ai figli della principessa. Vi ricorda qualcosa? Immagino che tutti sappiate che la prima opera di Dragon Ball è una rivisitazione del classico cinese Viaggio in Occidente. L'opera originale racconta la storia di Sun Wukong, nato dalla roccia e dal vento, il mistico scimmiotto di pietra capace di trasformarsi e di assumere 72 forme diverse. Son Goku non è altro che la versione giapponese di Wukong, tuttavia Dragon Ball non è di certo l'unica opera che attinge da questo classico romanzo. Senza spostarci troppo, il demone tetracoda di Naruto si chiama proprio Wukong e dà l'aspetto di un grosso gorilla, mentre per i videogiocatori in ascolto manca ormai poco al rilascio di Black Meat su Wukong, ennesima rivisitazione della storia. A proposito di Goku, Akira Toriyama, essendo uno di noi, fin da piccolo sguazzava in fumetti e personaggi di finzione, motivo per cui Goku ce l'ha un po' del Superman Dai. Entrambi sono alieni e possiedono delle capacità straordinarie, sono entrambi orfani e sono stati spediti sulla Terra in teneretà e prima della distruzione del loro pianeta d'origine, entrambi adottati da persone anziane, che poi perderanno, ed indirizzati verso la strada della giustizia. Parlando di cose da nerd, tra i nemici più famosi dell'opera spiccano anche gli androidi, le folli creazioni del Dottor Gelo ed in generale dell'esercito del Fiocco Rosso. La genesi degli androidi va a ricercarsi solo ed esclusivamente in una sola opera, ovvero Terminator. Se i personaggi come il Sergente Metallica non dovessero bastare a convincervi, sentite qua... Che giorno è? La data? 12 maggio. Giovedì. Fra tre anni, esattamente il 12 maggio verso le 10 del mattino. I due protagonisti del film, ovvero Kyle Reese e il T-800, sono rispettivamente Trunks e numero 16. Anche se questa saga è un po' particolare, perché poi abbiamo adolescenti anni 90, degli anziani turchi, minoranze etniche, gente che si iscriva al canale, camionisti e una cicala. Tra i design più bizzarri, però, vale la pena ricordare i grandi classici del cinema horror, tra cui mummie, vampiri ed anche il mostro di Frankenstein. Una parentesi a parte per i lupi mannari e l'alicantropia, la fonte di ispirazione per la trasformazione dei Saiyan in grandi scimmie. Il risultato? Una grande scimmia antropomorfa con qualche tratto canino. Con queste forme tamarre Toriamala un po' buttata di fuori, dai! Fortunatamente, però, queste cose sono sempre andate al passo con il grande rispetto per la cultura orientale. Per esempio il Dragon Sharon, che non è altro che un dragone cinese. Torniamo a parlare di iconicità, come non citare quindi la mossa più classica di tutto Dragon Ball, che tutti, almeno una volta, abbiamo provato a fare per vedere se riusciva anche a noi. Parlo ovviamente dell'onda energetica, o in originale Kamehameha. Ecco, questo nome buffo nasce da un'idea della moglie di Akira Toriyama. Nel dettaglio, il nome della mossa è tale quale al nome di un famoso re hawaiano, per l'appunto re Kamehameha. Ed invece la forma dell'onda energetica? Per carità, il Giappone penso sia la patria di attacchi energetici e raggi laser, ma ho l'impressione che l'onda energetica sia nata da il raggio distruttore per eccellenza, ovvero il soffio atomico di Godzilla. Parliamo ora di qualche cattivo, però, e partirei proprio con il cattivo per antonomasia, l'imperatore galattico Lord Freezer. Penso che conoscete tutti la questione dei nomi tra elettrodomestici e vegetali, ma noi non siamo qui a parlare di questo. Freezer, infatti, rappresenta la malvagità definitiva, poiché ispirato agli speculatori dell'edilizia. Non sto scherzando, amici, se il design dell'alieno nasce dai mostri che si immaginava l'autore quando era ragazzo, la cattiveria del personaggio si basa sui grandi speculatori del mercato immobiliare, che Toriyama sostiene essere, cito testualmente, la peggior specie di persone. Conoscete il francese? Sapete cosa vuol dire je ne me pas, no? No, non vuol dire iscriviti al canale, vuol dire non mi piace. La cosa però non ci interessa relativamente, perché l'unico dato che ci interessa davvero è che è un gioco di parole per formare il nome di Janemba. Ebbene sì, il mostro viola scritto in giapponese vuol dire pensiero malvagio, ma è anche un curioso gioco di parole con la lingua francese. Il diabolico guerriero degli inferi potrebbe essere almeno in parte ispirato ai Rakasa. Questi sono spiriti malevoli nelle culture buddiste ed induiste, che infastidiscono gli esseri umani. Gli elementi che lo tradiscono sono indubbiamente l'aspetto animalesco e cornuto, ma soprattutto la sua iconica spada con cui affronta il suo nemico, che ricordiamo non essere ne Goku, ne Vegeta, ma colui che lo avrebbe eliminato per sempre. Ora, tutti avete visto Aladdin, no? Forse sapete che è ispirato al romanzo delle Mille e una Notte. Deserti, oasi, sultani e magia fanno indubbiamente parte della millenaria cultura araba e persiana. Tra le figure dell'antica mitologia vi è anche il Jinn, un essere dai grandi poteri che fa patti con gli umani e che può esaudire desideri. Proprio lui, sto parlando del genio della lampada. Se dapprima Toriyama ha utilizzato la figura del genio per realizzare per l'appunto il genio della teiera, in arale, per Dragon Ball si è spinto ancora oltre. Se noi, infatti, davanti alla parola originale mettiamo una bella M, otteniamo Majin. Proprio così, l'antagonista finale di Zeta è una rivisitazione del genio che noi tutti conosciamo. Fateci caso, anche il vestiario è uguale, gile smanicato, delle scarpe appuntite e un pantalone chiaro e molto molto largo. Babidi, figlio di Bibidi, creatore di Boo, un occhiolino più che evidente a Cenerentola. Concluderei con il personaggio di Tapion. Non fatevi fottere, mi raccomando, ricordate che The Legend of Zelda Ocarina of Time è uscito 5 anni dopo la pubblicazione del film La Minaccia del Demone Malvagio. No, lo so, è l'eroe del pianeta Konads, chiedovenia. Quindi, esclusa l'opzione di Link, a parer mio rimane un'unica strada percorribile. Tapion è indubbiamente un elfo, e gli elfi, in qualsiasi opera, prendono per forza di cose più o meno spunto dall'immaginario collettivo costruito da Tolkien, con Il Signore degli Anelli. Akira Toriyama, per chi non lo sapesse, è anche la mano dietro ai design della serie di videogiochi Dragon Quest, una serie di giochi fantasy JRPG che presentano tra i molteplici personaggi anche degli elfi. Colore della pelle e capelli molto simili. Il tutto però rivisitato in chiave Battle Shonen. Il custode di Hildegard, quindi, non ha copiato proprio nulla, Nintendo, state tranquilli. E anche per oggi è tutto ragazzi, questo è quello che ho trovato io. Mi dispiace ma non sono riuscito a trovare nulla per altre cose che ho cercato, per esempio i Namechani, oppure gli stessi Saiyan. Quindi, come sempre, mi rimetto a voi. Scrivetemi nei commenti se sapete qualche altra origine, qualche altra fonte di ispirazione che c'è stata per uno o più elementi dell'opera che ormai sono diventati iconici nel corso degli anni. Per il momento io vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Ciao!